Siamo arrivati ai messaggi della domenica, ai vostri simpatici messaggi, Daniela, riguardo ad Arpensaci, con Franchini dice Io sono per il no voto, brava, Rosa, voto a nessuno perché non fanno niente, Mara, il voto, l'unica cosa che andrò a votare sarà la pattumiera, brava Mara Paola dice tante aziende che chiudono, mi associo totalmente, non se ne può più Maurizio, grazie mitico, questo è rivolto a me ovviamente Lalo del palazzo, sul professor Zichichiri e il caccia F35 dice Ho preso una fregatura comprando un F35 che come è descritto dal professor Zichichiri mi dà un sacco di problemi anche da nuovo Dove posso andare a fare il tagliando? Gradirei una risposta del professore, gliela gireremo Zorro, su me Zichichichiri, come direbbe Niki Giustini, siete clamorosi Aldo, le specializzazioni di Zichichiri, la cattedra di aerofagia non l'avevo mai sentita nominare Complimenti, esiste certo te se non sei istruito, che ta fare io Alessandro, sulla domenica di Chiaretondo, grazie Tuglio, quante risate mi avete fatto fare, quante belle parole scrivi tutte le domeniche su questo ragazzo riferito a Jacopino Che evidentemente ha lasciato un grande vuoto, oltre che in tv e in radio, nel tuo cuore E questo, come diciamo ad Arezzo, ce può mettere il lesso Luciana, su Chiaretondo, un grazie a te e il tuo staff Ci fate molta compagnia, ciao grande Leo, ciao Luciana Maurizio, il calcio nel sedere, buongiorno Leo, saluta il Brandini Anche se ci si vede di sfuggita Ora appena lo vedo Edoardo, multacci tua Ciao Leo, ieri leggendo il giornale mi ha incuriosito un articolo sull'andamento Delle infrazioni e quindi delle multe ad Arezzo Scrivevano di aumenti abbastanza consistenti, soprattutto per i divieti di sosta Detto fatto, tra un po' oggi prendo la multa per avere parcheggiato il motorino in una zona non adibita Per fare una commissione di 5 minuti a 10 metri dove avevo fermato il motorino In un posto che non dava assolutamente no a nessuno Ora mi chiedo, è giusto accanirsi in questa maniera quando in giro? Lo so per esperienza C'è gente che fregandosene delle regole della strada fa come vuole Rischiando di creare pericoli ben maggiori di uno scooter sul ciglio della strada Perché invece non fanno le ronde notturne per garantire un po' di sicurezza anche di notte? Siamo arrivati all'assurdo che per prendersi troppe responsabilità si divertono con piccole infrazioni È chiaro che anche io ho sbagliato, per carità, ma bisognerebbe un po' ragionare e usare il buon senso Ma te l'hanno fatta la multa o no? No, stavi per, rompi il cazzo, scrivi quando hai preso la multa Però hai ragione, Milan, Balotelli al Milan, hai proprio ragione Franceschi Sarebbe la rovina dello spogliatoio, non usare il condizionale perché l'hanno preso Laura, su Balotelli, anche le vicende riportate dalla stampa sulle risse del fratello Dimostrano che geneticamente i Balotelli sono rissosi Che ce ne facciamo specialmente in questo momento in cui si cerca Ora vi dico il seguito Di insegnare ai bambini una cultura per il calcio tranquillo e sportivo Insomma, molti genitori no Massimo, chiaro e tondo, grazie infinite Marco, sul Monte dei Paschi di Siena, la mia banca è riferente Ah, il famoso Monte dei Pacchi di Siena Luigi Trec, la mia banca è riferente Invece la mia banca è indifferente, come tutte Evidentemente hai problemi Elisabetta, Monte dei Paschi di Siena, la mia banca è riferente Questa era bellissima, però devo dire qual è Perché io scrissi la mia banca è riferente Gli do i soldi e un mar da niente Questa era la battuta Lauretta, ma come fai a trovarle? Quella della banca Differente è una delle più belle degli ultimi anni Non hai nulla da invidiare a crozza Specialmente i capelli Al quale assomigli tra l'altro E sei di una sagacia unica Te, Lauretta, ho una trombata Comunque io, c'è caso che te la dia Anche se mi trovi in forma Saletti Luca, questo siccome si firma col cognome Leggo anche il cognome A Siena, sempre sul Monte dei Paschi Che la banca faceva clientela politica E trent'anni che tutti lo sanno Ora tanti si meravigliano Allora mi viene in mente quel detto sui senesi Che mi hanno detto tante volte Arezzo No, quella Siena di tre cose piena Eh no, no Carlo Berlusconi compra Balutelli Basta tirare i calci a un pallone Va tutto bene Carla Cassai occhio per occhio Invece il dente per dente Un che si trova tanto gratis La Carla, ormai l'ho letto il cognome È sempre molto sagace Una retina Sull'arrivo di Balutelli Così ora oltre alla moglie Berlusconi Gli tocca dare un sacco di soldi anche a Balutelli E poi continua a lamentarsi No Balutelli, Berlusconi Artemisia Sul Brandini Tra te Carlo Scusate ma manco io Un tocco di classe in più Sì che so tra me Carlo Brandini Sono degli incontri di classe unica Mi immagino che torsola tu sia Anche te E Rustia Questo mi piace Sui signali Siccome ho scritto Che c'è una malattia sui signali Proprio ieri a Grosseto L'hanno rilevato il secondo caso Non mangiato assolutamente La carne di signali cruda In settimana Tra l'altro mercoledì Avremo un incontro Col presidente dell'ATC Chiatoschi Per spiegare Come si può ovviare a questo problema Signali Allora anche i signali sono malati Ti Allora Mi sa che te Leo sei malato De trainella Sì che questo La trainella Insomma sta cazzata Che la rovina Gamberini Stanno lavorando per noi Ho sempre sostenuto Che gli italiani È un popolo Gli italiani sono un popolo Insomma Silvia un po' di Di correttezza Gli italiani È un popolo Di bella gente Fortunata Non ce n'è uno Che non lavori per noi Questo ovviamente Sarcasmo allo stato Puro Vi lascio con Jacopino Nell'altro filmato Il solito Ricordo Domenico Caputana Alla prossima Si è sentito il tonfo? Alla prossima Alla prossima Alla prossima